maionese, bacon, fettina di tacchino o pollo, pomodoro e lattuga. Io ho trovato della gentilina. Pomodoro e lattuga li condisco prima con olio, sale, pepe se gradisci. Spetto la fettina di pollo o di tacchino, solitamente la cuocio con olio, limone, sale e a seconda della grandezza della fetta di pane decido se lasciare la fettina intera, tagliarla a metà oppure farle tante listarelle, cioè tagliare la carne a fettine sottili. Perché se il pane è molto piccolo basta la fetta intera, è meglio anzi la fetta intera o tagliata a metà, ma se la fetta di pane è molto grande allora preferisco tagliare a fettine la carne in modo da poterla distribuire meglio all'interno del panino. Quando taglio a fettine condisco la carne con un po' di maionese perché in questo modo si viene trattenuta meglio all'interno del panino. Il bacon o pancetta fumicata va sempre cotta prima, o in padella o in forno. Quando preparo il club sandwich tengo conto dell'occasione. Per esempio questo club sandwich verrà servito all'interno di un aperitivo con altre cose e quindi ho scelto un pane da toast piccolo. Questo poi è quello che ho fatto io, è il mio pane in cassetta della colazione. Se invece il club sandwich viene servito come piatto unico per pranzo o per brunch, allora scelgo un pane più grande e naturalmente accompagno sempre con un contorno. Dopo aver fermato il club sandwich con degli stecchini, naturalmente usateli più lunghi se il vostro club sandwich è più grande, noi che cosa si fa? Si taglia tenendo fermo in questo modo. Grazie a tutti.